Un brutto incidente a Badia Alpino lungo via dei Boschi. Siamo nella Valdichiana a Retina. Intorno alle 16 e 40 circa due persone a bordo di uno scooter sono rimaste coinvolte in un fuoristrada. Non sono stati coinvolti altri veicoli. L'uomo alla guida dello scooter per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e i due sono finiti a terra alcune decine di metri più avanti, il mezzo a due ruote. Uno dei due è finito nel fosso sottostante la sede stradale sul posto sono accorsi i sanitari dell'emergenza urgenza che hanno attivato anche l'elisoccorso Pegaso, presenti anche i carabinieri. Le persone ferite inizialmente sembravano essere entrambi un codice rosso, sono stati trasportati alle scotte di Siena poi dopo la valutazione dei sanitari in codice giallo. Si tratta di due uomini di 32 e 23 anni. Purtroppo non è stato l'unico incidente che ha coinvolto mezzi a due ruote in Toscana in questa prima domenica primaverile. Alla strassigna fra le colline fiorentine lo scontro tra una moto e una bicicletta che ha avuto un epilogo ben più tragico. Hanno perso la vita un 54enne motociclista e un 57enne ciclista.